Antonio, il Conte è diventato re però in questo finale di stagione noi abbiamo fatto vedere qui in queste immagini che anche tu puoi vedere la tua crescita dalla regular season alle partite che contano come quelle di Coppa Italia fino ai playoff, insomma che stagione è per te? Ricordiamolo e dicelo, insomma non facile dal punto di vista fisico però con un rendimento in costante ascesa Sì, è stato difficile all'inizio inserirmi piano piano poi sono riuscito a trovare il mio posto ho capito quali erano le cose che potevo fare per aiutare la squadra e partendo da quelle poi è venuto anche tutto il resto in questo finale di stagione che rientravo adesso da un periodo fuori un problema muscolare ho cercato di stare subito sul pezzo è un momento della mia carriera importante a questo obiettivo così vicino non ero mai arrivato però diciamo questo è un anno importante quindi sono pronto per giocarmelo fino in fondo ovviamente insieme a questo obiettivo è un anno R Oviyaga quindi si è email che pari un anno di fronte